E' in allestimento nella Certosa di Padula l'esposizione sulle tipicità della dieta mediterranea che accompagnerà le tre giornate intitolate Emozioni UNESCO, un evento finanziato con fondi europei al comune di Padula che dal 26 al 28 febbraio consentirà di favorire la diffusione delle buone pratiche per un sano stile di vita. La speciale rassegna è stata illustrata a Napoli dall'assessore comunale al turismo Tiziana Bove Ferrigno e dal presidente dell'osservatorio regionale per la dieta mediterranea Vito Amendolara. Si inizierà giovedì alle 9 e quando in Certosa giungeranno gli studenti delle scuole alberghiere e degli istituti superiori che verranno impegnati in una lezione su come migliorare il loro approccio con il cibo. Venerdì a partire dalle 10 si terranno una serie di incontri per tentare di tracciare le linee guida della dieta mediterranea. La giornata conclusiva, quella di sabato, sarà riservata all'incontro tra le piccole imprese agroalimentari e i ricercatori del CNR. Nel corso delle tre giornate sarà possibile visitare la mostra allestita per far ripercorrere al pubblico le origini della dieta mediterranea e la sua diffusione nel bacino del Mediterraneo. L'evento Emozioni Unesco, ha affermato l'assessore Bove Ferrigno, fa parte di un progetto più ampio di attrazione turistica e destagionalizzazione.